Isabella Swan, io giuro di amarti in ogni istante per sempre. Epico, adrenalinico e pieno zeppo di personaggi accattivanti, Eclipse è il film preferito dai due giovani attori. È il più vero che la relazione si tratta nella serie, e lei considera a Jacob per la prima volta in un modo realistico, quindi il triangolo di amore diventa un grande conflitto, anche per tutte le cose di battaglia. Definito il film delle scelte e dei grandi sentimenti, Eclipse ruota intorno a una serie di vicende più o meno movimentate. Desiderata sia da Jacob che da Edward, Bella stenta a decidere se diventare o meno una vampira. Contemporaneamente, gruppi diversi di vampiri si sfidano in una dura battaglia a cui partecipano anche i licantropi. È un materiale narrativo immenso, trasformato in due ore di gustoso intrattenimento da David Slade, un regista con cui Kristen Stewart e Taylor Lautner hanno lavorato molto volentieri. È sicuramente creata un ambiente che è facile da perdere. E, considera che sia un grande film di CG, è creata un mondo che è molto più che dei modelli di modelli di volvi, e delle scelte che si guarda e non senti nulla. È difficile fare un film di CG e mantenere l'emotione, e mantenere l'emotione. No, c'era molta emozione con i wolvi, sicuramente. Sì, è incredibile visualmente, quindi credo che sia fantastico per questo film. Non hai bisogno di cambiare per me, Bella. Ti amo e voglio che alla fine tu scelga me invece che lui. Dopo aver incontrato la stampa, Taylor Lautner e Kristen Stewart hanno presentato il fatidico quarto d'ora di Eclipse al pubblico. Il luogo era l'auditorium della conciliazione, davanti al quale centinaia di Twilighters si erano appostati fin dalle prime ore del mattino. All'arrivo dei loro beniamini, ragazzi e ragazze di ogni età sono letteralmente impazziti. Cosa senti a avere tantissime persone che ti amano? Non mi amano, mi amano, mi amano questa franchezza. Sono molto felice di essere qui. Questo è incredibile, è il mio primo anno in Roma. Questo è fenomenal. Cosa succede a Jacob in questo film? È molto diverso. È maturato un po' e è molto animato. È getto frustrati. È bella bella per la prima volta. Ci sono molti nuovi cose. Puoi dire ciao a la nostra audience? Ciao, a tutti. Eclipse arriverà nelle sale il 30 di giugno, mentre per vedere Breaking Dawn dovremo aspettare ancora un po' di tempo. Più del previsto, dal momento che gli episodi del quarto romanzo saranno divisi in due film. Intanto accontentiamoci di questo terzo adattamento, che si prepara a sbancare il nostro botteghino. Tu non sai che guaio ti stai cacciando. Combatterò per averti, finché il tuo cuore batterà ancora.